Sono le prime ore del mattino a Elagheila, una città strategica di 75.000 abitanti a 154 km a ovest di Benghazi. Un gruppo di militari ribelli si sposta in auto ed ecco che si sentono i primi spari. Come mostrano le immagini, gli insorti si danno alla fuga. Le forze fedeli a Gheddafi continuano a sferrare attacchi anche a est della Libia, roccaforte dell'opposizione a Raïs. Altri intensi attacchi sarebbero avvenuti, secondo quanto riferisce la Associated Press, a misurata la terza città del paese nordafricano, a 210 km a est di Tripoli.